I farmaci sequestrati dai carabinieri nella casa della salute di Subbiano non apparterrebbero alla ASL. Questo emerge dalle prime verifiche dell'azienda sanitaria toscana Sud-Est che riporta in un comunicato stampa la sua posizione. Quelli sequestrati dai carabinieri sono sacchetti di farmaci che i parenti dei soggetti deceduti hanno riportato ai loro medici di famiglia collocati nella stessa casa della salute, in attesa di essere smaltiti come rifiuti speciali. Fra i farmaci ci sono anche quelli per la terapia del dolore, comunemente usati e promossi dalle politiche sanitarie, ma non risulta alcuno stupefacente. La struttura di Subbiano, prosegue il comunicato, è stata inaugurata nel febbraio 2012, una delle prime in provincia di Arezzo. Vi operano 8 medici che garantiscono a circa 10.500 cittadini dei comuni di Subbiano, Capolona e Castiglion Fibocchi, elevati livelli organizzativi e la fruizione di percorsi assistenziali complessi. Nei locali dell'ex ospedale di Subbiano trova posto anche una RSA. Per quanto avvenuto all'interno della Casa della Salute, chiude il comunicato stampa in seguito ai controlli dei carabinieri, la ASL Toscana Sud-Est farà i suoi passi prendendo i dovuti provvedimenti.